Il 2021 si chiude all'insegna delle polemiche nella città di Pagani, in primis quelle relative alla carenza di organico all'interno del corpo della polizia locale, ma il sindaco Lello De Prisco guarda con ottimismo all'anno che verrà e annuncia che il 2022, grazie anche all'approvazione del bilancio, sarà l'anno della normalità. Riflettori puntati sulla questione rifiuti. Concludiamo in bellezza l'anno perché abbiamo approvato il bilancio, quello che c'era stato anticipatamente approvato dal Ministero degli Interni, che vuol dire andare verso la normalità. Per normalità si intende la capacità di muovere economicamente delle somme per fare delle cose necessarie e visibili alla città, perché il grande dramma di chi opera e opera e deve operare prima dal punto di vista burocratico che tutto ciò che si fa, il lavoro che si svolge, non è visibile ai più. Sam, anche questa società è già finita al centro di polemiche. Si parla spesso di servizi che non sarebbero all'altezza della città di Pagani, con rifiuti per strada e si richiede anche una maggiore operatività. Ma i rifiuti per strada, c'è da dire, facciamo un distinguo. In una prima fase c'è stato un problema sullo spazzamento, ma non c'era sulla raccolta. In questa fase, perché si utilizzavano i ragazzi dello spazzamento sulla raccolta? Ovviamente tutti stiamo vedendo ciò che è accaduto anche a Salerno della città, ovvero lo scandalo delle cooperative. Utilizzare le cooperative per la raccolta era un atto sbagliato, che io ho sottolineato prima ancora, delle indagini, per cui quando i ragazzi dello spazzamento sono stati dirottati per la mansione, per cui loro erano stati, la cooperativa aveva vinto l'appalto, abbiamo un ottimo spazzamento, ma abbiamo problemi a garantire il ciclo del ritiro dei rifiuti, perché poi c'è di fondo la mancanza di personale. Oltre al dramma atavico delle malattie, delle 104, delle ferie, tutte cose che si sommano ad una carenza già strutturale del personale. Allora l'intervento dell'amministratore, della nuova dirigenza, va in questa duplice veste. Da un lato garantire la legittimità delle ferie, delle malattie, dei riposi, d'altro canto è lavorare su un piano assunzionale. Piano assunzionale che possiamo mettere in atto dopo aver fatto a monte la razionalizzazione delle società, aver riequilibrato il bilancio comunale, per cui anche questa cosa potrebbe sistemarsi, quindi con delle piccole nuove assunzioni per il 2022. Va ripasso anche con un'educazione ambientale dei cittadini che non sempre rispettano le regole. Assolutamente, una campagna nuova di sensibilizzazione alla raccolta differenziata è fondamentale, così come una forte spinta, anche perché prescritta dal Ministero degli Interni, sul recupero dell'evasione fiscale. Questo è un altro fronte su cui ci stiamo combattendo, dove faremo dei nemici, dove dalla parte degli altri consiglieri comunali, tra l'altro quelli che hanno dichiarato il dissesto, è facile fare la demagogia dicendo che la GESET è intervenuta con pignoramenti, ma questa è la prescrizione normativa, per cui, ripeto, noi combattiamo da un lato con già la difficoltà di una popolazione che evade al 60% le tasse, a questo si associa la facile demagogia di alcuni consiglieri che, se fossero stati a mio posto, avrebbero ragionato da sindaco diversamente. Però, ripeto, il problema è di chi ce l'ha e la città l'ha affidata a noi.